maturità 2021 la leader di fratelli d'italia giorgia meloni aspramente criticato il primo provvedimento del nuovo ministro dell'istruzione patrizio bianchi definendolo come un ministro fotocopia di azzolina in salsa pid la replica dell'ex ministra non si è fatta attendere giorgia meloni parla di fotocopia in salsa pd ha dichiarato lucia azzolina all'agenzia ansa veramente il pd voleva introdurre la prova scritta agli esami di stato il ministro bianchi invece sembra intenzionato giustamente ad accogliere la mia proposta replicare lo schema dello scorso anno un esame semplificato ma serio dispiace solo a prendere la notizia dai giornali l'ordinanza era pronta da settimane l'ho rinviata per rispetto istituzionale aspettando la formazione della nuova maggioranza si è invece deciso di scavalcarla l'ex ministra dell'istruzione lucia azzolina ha sottolineato all'ansa il fatto che il testo non sia passato dalle commissioni grazie a tutti grazie a tutti